salve salve eccoci nuovamente a questo consueto appuntamento dei quiz commentati in diretta qualcuno di voi magari la sta vedendo registrata siamo contemporaneamente sul mio canale youtube e sulla diretta instagram ovviamente su instagram non vedrete i testi dei quiz ma li sentirete da me enunciati invece ovviamente su youtube potete vedere lo schermo condiviso faremo tre tipi di quiz faremo dei quiz presi da una banca dati di un concorso reale faremo dei quiz presi dalla banca dati omnivis dei anche questi presi da concorsi reali ma estratti a sorte con la tecnica dell'individuare la risposta errata e poi un quiz di divertimento ma è sempre quiz da banche dati reali quindi esercitazioni vere e proprie vedo ci sono già tantissimi collegati sia sul youtube che su instagram ringrazio ovviamente tutti quelli che stanno seguendo diamo qualche altro fabio dice mi sono iscritto ad economia e ho dato i primi due esami e grandissimo fabio che ha deciso di fare l'università bravissimo bravissimo complimenti per questa scelta stimolato diciamo anche da i successi che sta avendo guardiamo se ci sono anche altri commenti altre persone che stanno scrivendo oltre ovviamente buongiorno a tutti quanti bene 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 vedo che siamo pronti siamo caldi allora iniziamo con i quiz da la banca dopo una piccola pausa di sconnessione sono tornata stavolta da dipendente della pubblica amministrazione grandissima valentina che era qui con noi come studentessa e poi ha vinto i concorso è diventata posto fisso ben arrivata allora iniziamo iniziamo dalla banca dati mi dovete scrivere nei commenti le risposte errate io vado a togliere le errate quella che rimane rimane quella giusta allora ai sensi dell'articolo 10 della legge 400 1988 da leggere almeno una volta durante la vostra preparazione legge 400 dell'88 i sottosegretari di stato possono rispondere a interrogazioni di interpellanze a non mai b sì ma solo previa autorizzazione da parte del presidente del consiglio dei ministri c sì sempre di sì ma solo per questioni di loro competenza cosa togliamo intanto elisabetta dice io giovedì ho scritto per concorso dirigente tecnico avanti tutta elisabetta avanti tutta allora vediamo le vostre indicazioni in base a ciò che mi scrivete io vado a togliere e vediamo se è la tecnica che iniziate ad afferrare allora milena mi dice non mai da togliere ok e poi abbiamo vale vale che mi dice di togliere anche la c aia aia io ho seguito le vostre indicazioni vedo che la maggior parte sono caduti cadute nel trabocchetto perché i sottosegretari possono rispondere a interrogazioni interperlanze sempre non hanno necessità di previa autorizzazione e non c'è necessità di individuare la loro preventiva competenza vedete una domanda diritto costituzionale molto molto particolare è molto molto particolare ma che può capitare durante i concorsi la lettera p dell'articolo 117 della costituzione italiana prevede che lo stato ha legislazione esclusiva a sulla legislazione elettorale b riguardo alla previdenza sociale ci riguarda la protezione dei confini nazionali d sulla ricerca scientifica togliete le sbagliate togliete le sbagliate allora vediamo un po scrivetemi 2a 2b 2c ora mettete anche il numero perché sennò non so se state ancora rispondendo a quella precedente anche voi su instagram fate lo stesso ilaria mi dice la b da togliere lo stato prevede la costituzione prevede che lo stato ha legislazione esclusiva non sulla previdenza sociale dopodiché marcella mi dice la a della seconda no la legislazione elettorale certo che ha competenza esclusiva lo stato mentre erano sbagliate le altre soluzioni nuovo quiz ai sensi dell'articolo 81 della costituzione le camere approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal governo a ogni anno b ogni sei mesi c ogni tre mesi di ogni mese 3a 3b 3c o 3d da togliere ok non serve che lo precisiate tanto io l'individuo non scrivete qual è quella giusta perché rendete inutile questo tipo di gioco vania mi raccomando allora 3a 3b 3c o 3d da togliere allora ovviamente la più sbagliata partendo sempre dalla più sbagliata ogni mese ci figuriamoci se ogni mese si deve approvare la legge di bilancio ma neanche ogni trimestre ma neanche ogni sei mesi ovviamente la legge di bilancio e il rendiconto sono annuali e quindi questa vedete era abbastanza semplice bene ci siamo scaldati siamo già arrivati a un bel numero di partecipanti adesso andiamo sul quiz reale vi chiedo a voi di youtube di rispondere nei sondaggi sono tre opzioni il livello è medio facile quindi si può si può fare un ottimo risultato vediamo allora questo quiz preso da una banca dati reale allora io mi sposto qua così da impallare un po e disturbare allora ecco qua bene prima domanda ovviamente su instagram scrivete direttamente nella chat i controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace come sono definiti a sono definiti successivi b sostitutivi c di merito rispondete nel sondaggio su youtube rispondete nella chat su instagram allora ecco ilaria che velocissima su instagram la prima a rispondere cerco di allargare un po il testo allora vediamo un po se riesco ad allargare il testo sì riesco ad allargarlo e mi sposto un pochino comunque la domanda era abbastanza chiara daniela quante domande oggi stai a vedere dai vediamo dove arriviamo gianluca risponde ok vedo che molti stanno rispondendo siamo partiti con una domanda abbastanza semplice però vi faccio notare perché ci sono importanti le statistiche e utilizzare tanto ciao gianluca ben trovato anche qui su instagram perché è importante utilizzare il sistema del sondaggio perché per vedere che nonostante la domanda abbastanza semplice un 10 15 per cento anche quelle semplici perché magari all'inizio della preparazione perché magari ha letto male la domanda le sbaglia quindi a volte anche soltanto la concentrazione mi fa andare già fra quelli che ce la possono fare quindi questo è importante ora vi faccio vedere a questa domanda che su 100 che hanno risposto hanno risposto correttamente la risposta giusta era ovviamente la successivi lo dice la domanda i controlli che intervengono dopo che l'atto sia dopo che l'atto sia divenuto efficace saranno successivi però il 13 per cento probabilmente leggendo male ha sbagliato mentre vedo su instagram hanno indovinato tutti quanti proviamo la numero due vediamo come va quindi come vi dicevo una prima cosa da imparare quella dello stare attenti a leggere la domanda quindi a l'ho letta male non conta è come averla sbagliata allora la numero due recita in questo modo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001 per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a no mai b nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto con esclusione dell'assenza per ferie per la durata dell'assenza c nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto inclusa l'assenza per ferie per la durata dell'assenza intanto noe mi dice buongiorno devo far sapere che ancora grazie alle sue video lezioni ho passato il concorso in polizia locale grande noe complimenti a te diciamo non posso aver contribuito ma il ruolo fondamentale è il tuo ecco stanno arrivando su instagram le risposte ovviamente insomma vi orienterete fra la b e la c e anche su youtube anche qui una percentuale abbastanza grande sbaglia questa risposta la domanda sulle mansioni superiori è frequentissima nei concorsi frequentissima perché con quell'articolo non complicato si possono realizzare una quindicina di tipologie di domande ok nonostante sia un articolo abbastanza semplice spesso nei concorsi come in questo caso viene riprodotto in modo diversificato quindi aspettiamo sempre di superare abbondantemente i 100 partecipanti enrico dice qui questa via fa barcollare insomma vedo che si su instagram sono andati un pochino più centrati allora aspettiamo le vostre risposte ho passato il primo scritto maria ora mi attende la seconda prova tre quesiti aperti ottimo book 05 book 05 e book 07 a seconda dell'ente in cui fai la prova due testi che per le domande risposta aperta sono importantissimi allora vedo che metà metà ha sbagliato attenzione allora proviamo a spiegare perché la risposta giusta è la b di bologna io ho un dipendente che non lavora ok che per qualunque motivo si assenta con diritto alla conservazione del posto attenzione l'assenza con diritto alla conservazione del posto non è il giorno di ferie la settimana di ferie o i 15 giorni di ferie ecco perché la risposta è la b con esclusione dell'assenza per ferie non che durante l'assenza per ferie no le cose gli rimangano da fare ma non è sostituito cioè non è sostituito da un altro dipendente esterno cioè non si scorre la gradatoria per sostituire per ferie ok la sostituzione qui si intende la sostituzione attraverso l'assunzione o la mobilità ok e vale solo se ad esempio vado in maternità vado in aspettativa eccetera eccetera non quando vado in ferie quindi probabilmente chi ha risposto la c il 50 per cento insomma quasi il 50 per cento quasi la metà la sbagliata questa è stata transciante è perché ha confuso quella sostituzione intesa come gli faccio io il lavoro mentre in ferie qui invece la sostituzione organizzativa quindi vedete una domanda semplice perché l'articolo 52 studiatelo bene frequentemente viene richiesto è abbastanza semplice nella sua formulazione però può trarre l'inganno e complimenti a chi ha realizzato questo quiz perché è riuscito nell'intento che deve avere chi realizza i quiz di trarre l'inganno quindi vedete con questa domanda già si era dentro o fuori allora andiamo alla prossima domanda numero 3 che dice da quante sezioni è composto il dup documento unico di programmazione a tre sezioni finanziaria economica patrimoniale b due sezioni strategica operativa c due sezioni finanziaria ed economica vediamo le risposte intanto leggo i commenti ho messo c pur sapendo che era la b ma perché volevo la spiegazione di quella giusta non mi convinci bh cosa stai dicendo bh ilaria mi dice premesso che mi sto preparando l'obiettivo di sapere tutto per lunedì ho una prova scritta amministrativo contabile sarà scritta a mano cosa ne pensa delle prove scritte a mano che bisogna usare la penna questo è il mio pensiero sulle prove scritte a ilaria la stessa cosa che penso sulle prove a computer si va si vince non si contestano le regole del gioco e che differenza c'è se uno le cose le sale sa nel cervello poi la mano e l'organo con la quale scrivo che ti digiti a tastiera a mano è indifferente io so soltanto ecco questa è la risposta un pochino più seria che chi ha una grafia pessima come il sottoscritto si deve sforzare un po di più perché quando la commissione non legge o legge male si arrabbia e può incidere sulla mia valutazione quindi scrivete bene e occhio ai segni distintivi non fate cancellature non fate scritte non fate disegnini che potete essere buttati fuori ecco sugli scritti a mano si rischia di essere esclusi per segni distintivi bene vediamo il sondaggio anche in questo caso diciamo un 20 per cento comunque la sbagliata il dup è domanda frequentata intanto benvenuta marta fra gli abbonati al livello professionale in questo istante ha fatto l'abbonamento bianca è dato se l'è risa bene allora il 20 per cento la sbagliata ma il dup diciamo una delle prime cose che si segnala sezione strategica sezione operativa due sezioni strategico operativa qui con il tecnicale comunque era sulla biola c però vedo che un 11 per cento si è fatto trarre inganno da sezione finanziaria economica e patrimoniale che allude alla ripartizione del rendiconto ok o della contabilità economico patrimoniale che ha una componente finanziaria un'economica e una patrimoniale ma che non è riferita al dup andiamo adesso alla domanda numero 4 intanto questi quiz vanno per in polizia locale certo perché perché i concorsi in polizia locale non li vincerete sul codice della strada neanche sul penale ma sull'amministrativo quindi non sottovalutate queste domande perché sul codice della strada e polizia giudiziaria quasi tutti faranno bene quelli che riusciranno a fare bene questi vincono quindi molto spesso che si prepara i concorsi tematici studia soprattutto le materie tematiche ed è un errore fondamentale fondamentale allora domanda numero 4 l'autorizzazione è il provvedimento attenzione a vincolato con cui la pia rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto legittimando il destinatario di tale provvedimento esercitare il diritto di cui già risulta titolare b discrezionale con cui la pia rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare c discrezionale con cui la pia rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto costituendo in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto quale delle tre è la risposta esatta mi chiedono di quale concorso è questo quiz non ve lo dico per ora ve lo dirò poi più avanti in modo tale che non andate a cercare perché lo userò per le dirette anche se ce la fò oggi pomeriggio o comunque domani sicuramente un'altra diretta vania giustamente ci dice attenzione se qui usate il tecnicale non c'è dubbio che la risposta è una di queste ma non devi dirla nella chat vania tendi a non rispettare le regole del gioco con il tecnicale sapete adesso svediamo per chi non conosce cos'è il tecnicale vada su google scriva chiarelli tecnicale e troverà due video commenti di alessandro chiarelli mio figlio che ha inventato queste tecniche e le ha realizzato questo video allora qual è il tecnicale il tecnicale ci dice si parte dalle due risposte simili quindi la b e la c è una delle due dopodiché si prende come giusta la risposta che contiene elementi di quella scartata per prima vedete nella nella c'è vincolato con quel legittimando il destinatario a esercitare un diritto di cui risulta già titolare che è la stessa formula che c'è nella b quindi prima si prendono le due simili poi si guarda quella errata e ciò che nell'errata è simile a una delle due è la risposta giusta e in questo caso ovviamente la risposta giusta è la b discrezionale l'autorizzazione discrezionale con cui la pia rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto legittimando il destinatario tra il provvedimento esercitare il diritto di cui già risulta titolare però vi faccio una domanda nella c la risposta c è la risposta esatta a quale domanda rileggo la risposta la risposta c è la risposta esatta a quale domanda discrezionale con cui la pia rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto costituendo in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto grazie Ilaria intanto non vedevo l'ora del weekend per i quiz ma anche per riposarsi spero intanto Rossella ci dice ho superato questo concorso quello di cui stiamo guardando le prove ma questo questa l'ho sbagliata capita registrazione dice puma potrebbe essere in realtà diciamo non è la formula precisa ma allude più alle concessioni per cui costituendo la titolarità del diritto è la concessione anche se appunto la prima parte rimuove un limite all'esercizio di un diritto non è completamente corretta però diciamo il riferimento l'allusione è alle concessioni giusto puma ovviamente diceva la la è la registrazione cioè la rimozione di un ostacolo senza esercizio di discrezionalità è nella classificazione dei provvedimenti amministrativi definita registrazione ottimo puma allora domanda numero 5 la quale mi dice la potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo di comuni province città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 della costituzione è a residuale delle regioni b concorrente c esclusiva dello stato domanda di diritto costituzionale molto interessante vediamo quale è la vostra risposta la potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo chi volesse imparare a memoria il 117 sulle competenze esclusive dello stato e quindi a contrario poi le altre competenze va su youtube scusate va sempre su google e scrive youtube chiarelli latte lilla capirete perché latte lilla youtube chiarelli latte lilla lascio a voi scoprire perché mentre vi metto anche il link alla ai video di youtube che vi dicevo ok vedo che stanno arrivando risposte stiamo quasi arrivando a 100 come al solito a 100 ci fermiamo instagram ottimo allora clamoroso clamoroso anche questa siamo arrivati con un 50 per cento poco di più 50 poco più del 50 per cento che l'ha indovinata esclusiva dello stato la potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo gli organi di governo sono tutti i comuni italiani hanno sindaco giunta e consiglio non possono le regioni legiferare in modo differenziato ovviamente con riferimento alle regioni a statuto ordinario anche se poi anche quelle sotto speciale hanno la stessa disciplina quindi era esclusiva dello stato ok al limite si poteva pensare concorrente sicuramente non residuale delle regioni però anche questo abbiamo visto ha fatto la differenza allora abbiamo fatto le prime cinque domande da questa banca dati reali adesso facciamo un quiziz allora quiziz per chi non l'avesse mai fatto significa se siete da computer non dovete installare niente se siete da dispositivo mobile ovviamente andate sul app store o sul play store e scaricate quiziz q u i z i z z gratuito per giocare allora chi è da computer può cliccare sul link chi è invece su instagram e vuole rimanere su instagram le leggerò quindi non dovete scaricare niente su instagram non potete partecipare o meglio potete andare a partecipare installando la app ma dovete cercare il link su youtube ecco che stanno entrando i partecipanti eccoci qua per chi è da dispositivo mobile deve indicare questo codice allora vi dico già sarà un fast quiz cosa significa sono 30 domande 30 tantissime ma le facciamo in 7 minuti rapidissimi rapidissimi si deve andare quindi state entrando numerosi e guarda là quindi moltissimi ovviamente vuol dire che stanno già seguendo queste dirette io andrò a leggere le domande senza darvi le risposte il codice mi chiede Ilaria è 162-095 162-095 per chi è da instagram e non vede 162-095 scusatemi non ve l'avevo detto ecco qua siamo a un minuto dalla partenza prof mi chiedevo se in un concorso amministrativo c'è molta differenza in termini di approfondimento richiesto fra un profilo C e un profilo D si va per vincere quindi quindi si studia come se si dovesse fare il concorso per dirigenti sia che si vada in categoria B sia che si vada in categoria D non è un esame non è che c'è un approfondimento se io sono approfondito prendo di più prendo 30 se non sono approfondito prendo 26 prendo sempre la sufficienza ma non vinco quindi si studia la morte probabilmente di più per categoria C che per categoria D perché lì può fare ancora di più la differenza sapere che ho studiato molto di più mentre per il D me lo aspetto diventa un minimo sindacale lo studio approfondito per il C non me lo aspetto e sono i jolly e i super jolly quindi si studia alla morte come dico sempre per un profilo superiore ma stiamo partendo attenzione ecco qua intanto guardiamo un po' i primi Puma già insieme a Marghe primo in classifica 7 minuti quindi finiamo alle 11.03-04 allora togliamoci tutta questa musicina che infastidisce andiamo a vedere le domande io le leggo senza commentarvi magari vi do qualche indicazione allora il codice è 162095 162095 per chi è su Instagram e ancora non si è collegato allora che cosa è sancito dall'articolo 81,3 della Costituzione non leggo le opzioni vi leggo solo le domande in modo tale che su Instagram possiate pensare l'ho rifassato l'articolo 81 della Costituzione è fondamentale che cosa riguarda riguarda la parte economico finanziaria quindi la gestione del bilancio e qui ci sono le varie opzioni la seconda domanda sempre di contabilità la legge di contabilità e finanza pubblica è allora è un quesito che richiede un po' di memorizzazione scusatemi questo ogni tanto questo qui impazzisce purtroppo ha un bug per cui quando vado a leggere le domande nella sezione domande mi fa mi fa uscire quindi non vado mi scuso con quelli che sono su Instagram che devo attendere non riesco a leggere le domande ora le leggerò alla fine quando avranno risposto mancano cinque minuti alla conclusione nel frattempo ne approfitto per leggere qualche vostro commento se lo volete fare vediamo anche di qua a quando un test per il concorso ministero della difesa anche questo è un test per il concorso ministero della difesa non ci sono molte differenze come vi dicevo non pensate di domande sull'esercizio della difesa o sugli acquisti in materia di difesa non è su quello che vincerete il concorso ma su costituzionale amministrativo pubblico impiego appalti e quant'altro quindi ogni quiz che facciamo è valido per tutto mi è uscita una cosa bingo scudo bingo scudo e non mi fa andare avanti no probabilmente c'è un tasto magari chi lo ha trovato lo consigli nella chat questo bingo scudo me l'hanno detto che è una cosa che dà l'applicativo ma si può andare avanti tipo scartando dando ok non lo so lato utente non conosco come funziona ma vedo che molti stanno andando avanti ecco qua paffi tiene dura con la seconda posizione Alessandro 82 con la sua terza posizione come vedete è fattibile realizzare un quiz di 30 domande in 7 minuti ok quindi con pochi secondi ovviamente aumenta il numero di errori si deve accelerare ma esercitatevi anche a questo intanto ottimo Dan che ne ha indovinate 10 su 10 ha sbagliato la prima e poi le sta indovinando tutte buongiorno a Sounding che è appena collegato qual è il codice 162095 il codice 162095 intanto vedo che il 73% sta rispondendo bene quindi sono domande su una tematica abbastanza difficile ma di livello medio facile perché quando siamo al 70% di percentuali indovinate dall'intera classe significa che sono abbastanza semplici quelli difficili si arriva al 40 50% al massimo quindi considerata una buona esercitazione Puma sta quasi concludendo commessi un paio di errori che possono capitare a volte anche per la fretta questo quiz è preso da un concorso reale sì anzi è un insieme di domande prese da concorsi reali non di un solo concorso i quiz che trovate su Quisiz sono i due tipi quelli storici classici che ho realizzato presi da banche dati reali varie messe insieme e poi quelli realizzati dall'intelligenza artificiale ogni tanto promuovo anche quelli realizzati direttamente dal sistema di intelligenza artificiale di Quisiz il Quisiz mi blocca con lo scudo e lo sciopero penso che dobbiate cliccare da qualche parte tipo la X per rimuoverlo non credo che lo faccia solo a voi vedo che tutti stanno intervenendo chi è già riuscito a rimuovere lo scudo magari in chat lo dica anche per gli altri purtroppo non so cos'è questa funzione è il prezzo da pagare per quando si usano le app gratuite per cui dobbiamo servirci un po' di pubblicità e altro io nel frattempo mi sono accorto di essere ancora nel mezzo scusatemi qui nella diretta mi sposto un attimo poi dopo mi ringrandisco quando facciamo l'altro Quis bene allora siamo al conto alla rovescia mancano tre minuti per concludere vedo che già qualcuno è riuscito a riuscire ehi Peter Parker con i superpoteri ne sta indovinando 16 su 16 sta puntando all'unplan magari un pochino più lento per svolgere un incarico 110 area finanziaria amministrativa un professionista può continuare a svolgere la professione o deve chiudere la partita IVA a tempo determinato ma è un rapporto all'ufficio che impone l'esclusività e quindi non si può rimanere titolare di partita IVA salvo mantenerla per incassare le somme residue ma non per svolgere ulteriori prestazioni anche per incassare le somme residue si deve chiedere l'autorizzazione quindi è bene quando si firma l'incarico 110 di chiedere l'autorizzazione a mantenere la partita IVA per la sola riscossione dei compensi delle prestazioni svolte prima dell'incarico e senza ovviamente svolgere ulteriori prestazioni si potrebbe non essere autorizzati alcuni enti non autorizzano e quindi impongono la chiusura della partita IVA e questo comporta una serie di conseguenze fiscali tipo gli incassi successivi dovranno essere registrati dal commercialista in modo diverso però ecco state attenti a questo aspetto allora ottimo Damiana ha concluso la sua opera con una buona percentuale risposta esatta intanto è diminuita la percentuale generale perché ovviamente lo vedete più in là si va nel tempo e più la stanchezza e la concentrazione diminuisce questo è un altro aspetto importante la maggior parte dei concorsi si vincono sulle ultime domande è un motivo per cui ogni tanto nelle dirette l'ho detto suggerisco chi vuole diciamo può essere una strategia perdente ma chi only the braves dicono gli americani solo chi è coraggioso poi ha successo partire dalle ultime invece che come tutti partire dalle prime parto dalle ultime quelle su cui gli altri deconcentrandosi ne sbagliano di più e torno indietro potrebbe essere una strategia vincente non l'assicuro però notando che ormai ne ho fatte centinaia se non migliaia di prove di quiz commentati è costante si parte con una percentuale elevata e diminuisce significativamente col passare del tempo non perché le domande diventino più difficili perché queste sono random messe a caso ma perché inevitabilmente la capacità di concentrazione diminuisce intanto ve l'ho detto anche se a 18 ore un 110 a 18 ore la vedo difficile bocca al lupo può essere può essere non è non è frequente se a 18 ore allora si può essere mantenuta se non in conflitto di interesse ovviamente quindi se svolga attività al di fuori dell'ente per cui ho l'incarico 110 la stavo correggendo c'è una circolare dell'agenzia delle entrate sì non so ora cosa si riferisce se si riferisce alla gli incarichi 110 al mantenimento della partita IVA può essere può essere che ci sia sicuramente una circolare sul tema Vani ha fatto 27 su 30 che è un'ottimissima prestazione allora siamo arrivati alla conclusione adesso terminiamo e vediamo quali sono le risposte più corrette quelle più sbagliate vediamo gli ultimi secondi intanto Peter Parker se l'è presa troppo comoda 19 indovinate su 19 ma troppo lento e non dico altro Peter Peter tengo d'occhio allora Max dice inglese un disastro in merito alla possibilità di avere aperta la partita IVA sì sì conosco quella circolare se si riferisce a questa l'orale del concorso simulato non si è ancora svolto no lo convocherò nei prossimi giorni io ho risolto sciopero scudo chiudendo la scheda e riaprendo una nuova ok ottimo penso che sia la strategia adesso 5 4 3 2 1 0 allora terminiamo vediamo come è andata 64% Franz Ciccio e Puma i tre primi in classifica ecco vedo che notate l'andamento vi faccio vedere queste sono le domande in verde quelle sopra la media cioè chi ha risposto correttamente sopra la media del 64% notate la maggior parte sono nelle prime 10 dalla decima alla ventesima abbiamo soprattutto arancione cioè siamo nella media o rosso sotto la media e dalla 19 in poi vedete ci sono la maggior parte dei rossi quindi siamo a conferma di quanto vi dicevo che si vincono i concorsi dalla metà in poi all'inizio quasi tutti hanno risposto bene e quindi non sono sulle prime domande intanto Fabio è quarto ottimo bene allora andiamo a riprendere i nostri quiz che avevamo messo il nostro quiz numero 6 rispondete su youtube nel sondaggio mentre su instagram nel testo a proposito di concorso simulato potrebbe avere link per esercitarsi a quelle che sono state le prime due prove sì non posso ora farlo su instagram ma scrivetemi o nei commenti su youtube o diciamo nei vari gruppi social canali social che mi riguardano e vi metto i link comunque lo trovate su community.omniavis.it community.omniavis.it domanda numero 6 quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo ok la corretta definizione di interesse legittimo a l'interesse legittimo è la pretesa che la PA eserciti i suoi poteri discrezionali o vincolati conformemente alla legge b l'interesse legittimo è il potere di agire riconosciuto a un soggetto al fine di soddisfare un interesse che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela c l'interesse legittimo è la pretesa che la PA nell'esercizio del suo potere discrezionale si attenga ai criteri di opportunità e di convenienza afferenti al cosiddetto merito amministrativo questa può può fare la differenza come vi dicevo è un quiz quiz medio facile però con alcune domande che sono selettive e questo è un bene per chi organizza questo tipo di quiz è fatto molto bene alcune semplici alcune che tagliano un po' le gambe qui se usate il tecnicale ci arrivate abbastanza semplicemente non usando il tecnicale prof il codice me lo ridisce no ormai abbiamo finito per il codice adesso siamo tornati ai quiz presi da una banca dati il quiz è finito allora può sollevare il testo dovrebbe essere già sollevato allora la può spiegare questa si dopo la spiegiamo adesso facciamo rispondere e vediamo quali sono le considerazioni da fare intanto ringrazio tutti quelli che stanno mettendo like dalle varie parti in particolare su youtube spero di arrivare a 100 like prima della fine di questa diretta ci siamo vicinissimi quindi chi non l'avesse messo lo vuole mettere è caldamente invitato maddalena dice tecnicale alla grande giovanna dice attenti al trabocchetto elisabetta dice mi sa che questa la sbaglio non può essere pessimista c'è il concorso per dirigente fra un po' bisogna essere ottimisti allora siamo arrivati a 100 e clamorosissimo clamorosissimo intanto max ci dice non cliccate sulla c perché è l'interesse semplice non è l'interesse legittimo allora bene 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 stanno aumentando notevolmente i like i cuoricini qui su instagram benissimo allora proviamo a spiegarla intanto vi dico i risultati del sondaggio su youtube il 46% ha risposto la b sbagliando sbagliando la b era un trabocchetto enorme e anche su instagram moltissimi hanno fatto la b sbagliando la a 38% quindi sono riusciti nell'intento la c era l'interesse semplice allora vi faccio vedere tecnicale tecnicale o la a o la c perché iniziano allo stesso modo l'interesse legittimo è la pretesa mentre la b dice il potere quindi è la pretesa fra la a e la b e la c la c dice criteri di opportunità e convenienza il cosiddetto merito amministrativo se opportunità vizio di merito non c'è interesse legittimo se non lo sapevo ovviamente poteva essere difficile però conoscendo il carattere dell'interesse legittimo potevo arrivarci in ogni caso l'interesse legittimo l'interesse non è il potere il potere è dall'altra parte dell'interesse la parola potere di agire riconosciuto a un soggetto per soddisfare un interesse che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela non è dalla parte del quello è il potere è la definizione di potere non di interesse legittimo e diciamo assomiglia nella definizione al diritto soggettivo quindi è la tutela riconosciuta a quell'interesse che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela e che quindi gli appronta gli strumenti adatti non è proprio la definizione di diritto soggettivo ma la B alludeva al diritto soggettivo mentre l'A l'interesse legittimo è la pretesa quindi lato soggetto io che faccio domanda per avere un permesso per un passo carrabile ok io ho la pretesa non ad avere il passo carrabile l'interesse legittimo è la pretesa io faccio domanda di passo carrabile a che l'APA eserciti i suoi poteri conformemente alla legge se ho diritto di averlo lo devo avere se non ho diritto non lo devo avere quindi l'interesse legittimo è proprio quel rapporto con la pubblica amministrazione in cui non posso ambire al risultato posso ambire a che il risultato sia frutto di una ponderata decisione secondo i criteri di legge qui diciamo con il tecnicale ci si poteva arrivare e con le nozioni fondamentali che vanno sempre ripassate compresa quella di interesse legittimo diciamo ci si poteva arrivare 38% quindi vuol dire 62% insomma inizia a tremare e a dover riaprire il libro nelle sezioni iniziali vi annuncio come sapete io durante le dirette vi do delle anteprime fra 15 giorni 20 giorni al massimo diciamo che forse immediatamente dopo Pasqua ripartiremo con un progetto che sarà molto molto importante un appuntamento settimanale fisso stabile rimanete sintonizzati poi ve lo dirò ma gli interessi dove si studiano sul libro su wikipedia diritto soggettivo interesse legittimo i due concetti fondamentali poi interessi collettivi interessi di fatto interessi semplici comunque anche solo wikipedia è un ottimo strumento di ripasso domanda numero 7 tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivato non rientra a l'occupazione b l'espropriazione c il contratto anche questa è una domanda di diritto generale anche questa secondo me farà la differenza intanto che differenza c'è fra il book 1 e il book 5 mi chiede Nicola molto diversi nel senso che il book 01 è un libro di teoria in parte cioè spiega gli istituti giuridici ma spiega anche gli atti per cui trovate esempi di atti amministrativi e unisce i quiz come metodo didattico quindi ad ogni argomento c'è il quiz per semplificare la spiegazione oltre ai decaloghi le spiegazioni quello che vedete nelle mie lezioni tradotto in testo mio testo diciamo realizzato da me il book 05 ringrazio Simone Anzani per il lavoro svolto è invece un testo di temi tracce svolte per cui si prende la differenza fra diritto soggettivo e interesse legittimo e c'è una traccia svolta di 20 30 40 righe equivalente a quella che potrebbe essere una risposta orale o una risposta ad un tema scritto con mappe concettuali ed approfondimenti quindi è diciamo non organico come il book 01 e sono due testi complementari book 05 soprattutto per chi ha concorsi a domanda risposta aperta e l'orale book 01 per tutto Fabio dice giustamente se non ti tieni allenato sempre rischi di dimenticare argomenti che prima conoscevi tranquillamente e questo i nostri neuroni lasciano qualcosa e prendono altro intanto Alice dice io il book 05 ce l'ho è utilissimo anche per l'orale ottima conferma da parte di Alice allora vediamo un po' anche questa è una domanda in cui più del 50% di voi la sbaglia Salvatore dice nel sondaggio ho scritto C perché ho letto male la domanda ai concorsi non conta è uguale anzi è un errore comunque bene rendersene conto prima però bisogna stare attenti perché può succedere anche ai concorsi comunque oggi non mi sono svegliata presto alle 4 come sto facendo ultimamente ma verso le 8 e sto malissimo completamente spasata allora bisogna tornare a svegliarsi alle 4 pronti allora siamo quasi a 100 risposte e la risposta giusta quale tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivato non tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivato non rientra l'occupazione che non è un modo di acquisto a titolo derivato mentre lo sono l'espropriazione del contratto la risposta giusta era là il 42% ha risposto correttamente quindi il 58% la sbagliata diritto civile non l'ho studiato però per i concorsi in realtà questo è in parte diritto civile ma fa parte anche del diritto amministrativo ricordatevi che diritto amministrativo comprende anche quelle nozioni diritto civile che si applica alle pubbliche amministrazioni pensate ai contratti pubblici agli appalti è diritto civile ma in chiave amministrativa quindi cercate di farlo e di seguirlo allora andiamo alla prossima pronti attenti via con la 8 articolo 165 del Tuel da quante parti è composto il bilancio di previsione finanziario a da due parti b da cinque parti c da un'unica parte da quante parti è composto il bilancio di previsione finanziaria chi di voi l'ha visto ha seguito i corsi il code 100 il code 110 o i video commenti del code 267 del 118 insomma varie parti in vari corsi lo trovate o comunque nei video commenti però insomma è abbastanza intuitivo è abbastanza intuitiva la risposta può essere ingannevole ma è abbastanza intuitiva da quante parti è composto il bilancio di previsione finanziaria intanto Juergens un saluto anche a te ti ho visto e ti sei collegato qui su Instagram ringrazio tutti quelli che seguono sui vari social chi di voi vuol cercarmi mi trova su Facebook profilo personale e pagina su YouTube ovviamente su Instagram su TikTok su X su Threads e varie altre cose minori allora bene terminiamo il sondaggio la giusta della set era la A per chi non l'avesse seguita perché magari gli è partita la pubblicità mentre per quanto riguarda la risposta numero 8 la risposta corretta è anche questa la A due parti entrate spese ok le due colonne e poi dopo in fondo il risultato che fa 0 ricordatevi nel bilancio di previsione finanziaria il risultato è sempre 0 perché è un bilancio di previsione quindi è un bilancio in cui io stimo le somme e le devo stimare in modo tale che le entrate pareggiano le uscite che è diverso dal rendiconto che è numeri reali dove è improbabile che faccia 0 quindi avrò un avanzo o un disavanzo ci può anticipare se farà altre dirette fra oggi e domani io provo a anticiparlo però normalmente lo dico lo dico piano ho una vita privata ok ogni tanto faccio altre cose quindi dipende da come va la giornata però rimanete sintonizzati probabilmente domani sicuramente non so a che ora ma domani sicuramente continueremo con questi quiz perché è un questionario molto interessante vedete è selettivo molto selettivo stasera non lo so non lo so allora vediamo la numero 9 vediamo se selettiva o meno la numero 9 dice il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità ai sensi del 316 codice penale commette il reato d a peculato d'uso b peculato mediante profitto dell'errore altrui c malversazione danni dello stato intanto francesca su instagram mi chiede quando possiamo rivedere la diretta e dove questa che state seguendo la potete rivedere sia su instagram perché la condividerò sul mio profilo sia su youtube dove vi consiglio di guardarla perché vedrete anche il video condiviso e quindi potrebbe esservi più utile invito anche quelli che sono su youtube abituati a vedere le dirette su youtube ottimo perché vedete le domande a fare qualche volta qualche diretta su instagram perché perché non leggendo le domande vi costringete a stare più attenti e vedete come siete preparati diciamo è un'esercitazione più complessa ma vi può aiutare magari non sempre però ogni tanto provate a partecipare sulle dirette instagram molto spesso queste dirette le faccio contemporaneamente su instagram e su youtube Mimmo ha sbagliato nel digitare ma attenzione come detto ai concorsi conta quello che digitate non quello che poi dite dopo Fabio mi commentava prima attività meno passività uguale utile quindi attività uguale passività più utile non so che cosa ha voluto dire su questo penso si riferisse al rendiconto ma non si riferisce alle attività e alle passività ottima avania bisogna anche divertirsi mi sottolinea il reato proprio bene però vediamo che tipo di reato è allora il 89% di voi l'ha indovinata ovviamente il pubblico ufficiale il quale giovandosi dell'errore altrui e quindi vedete già nella domanda c'era il richiamo al profitto dell'errore altrui della risposta B in ogni caso mi orientavo tecnicale fra la A e la B e quindi aggiungendo questo profitto dell'errore altrui riuscivo a individuare la domanda bene questa era una domanda piuttosto semplice ma comunque l'11% è stato tratto in inganno quindi per dirvi che anche quelle più semplici quasi letterali si possono sbagliare la domanda numero 10 è l'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è l'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è A sanabile B nullo C annullabile era riferito alla zero finale il motivo per cui fa zero no Fabio no questa cosa che hai precisato non mi torna il motivo per cui fa zero è perché le entrate e le spese hanno la stessa cifra non le attività e le passività attività e passività è un altro concetto quindi entrate e spese solo componente finanziaria fa riferimento al bilancio bene l'atto viziato da difetto assoluto di attribuzione che cosa ha questo è proprio l'ABC dei vizi dell'atto amministrativo sui vizi spesso trovate varie domande come è avvenuto in questa banca dati ripeto di un concorso vero reale somministrato pochi giorni fa e penso che mi abbia trasmesso Elisabetta e anzi ringrazio tutti quelli che mi inviano le prove concorsuali magari anche se si trovano in rete però io le riutilizzo per fare queste dirette scelgo quelle più adatte a volte più difficili a volte più semplici intanto BH mi dice potrebbe spiegare cosa vuol dire eccesso di potere non l'ho capito bene nella nullità mi sa che non l'hai capito bene BH perché l'eccesso di potere non ha niente a che fare con la nullità e quindi proviamo a spiegarlo adesso vediamo l'esito del vostro sondaggio in cui anche in questo caso l'86% ha risposto correttamente nullo nullo difetto assoluto ok quell'aggettivo assoluto rende il vizio come un vizio di nullità altrimenti sarebbe stata l'incompetenza relativa che è annullabilità gliele inviamo per gmail le prove si simone.chiarelli che ho c'è la gmail.com potete mandarmi le prove intanto ho rivisto il video con il grafico atto annullabile gamba rotta un ottimo video allora proviamo a spiegare l'eccesso di potere i vizi dell'atto amministrativo sono tre di legittimità incompetenza relativa semplice adotta l'atto un ufficio diverso che fa parte della stessa amministrazione secondo violazione di legge dovevo fare una certa procedura ne faccio un'altra violo una legge in senso lato legge regolamento o altra disposizione vincolante tre eccesso di potere non violo formalmente nessuna legge io sono l'ufficio competente quindi non è incompetenza non violo una disposizione specifica ma uso male il potere esempio classico io visto il parere favorevole dell'ASR visto il parere favorevole di Tizio Caglio e Sempronio nego l'autorizzazione cioè visti tutti i pareri considerati favorevoli adotto un provvedimento contrario illogico irrazionale dove la motivazione è del tutto illogica quindi da questo punto di vista l'eccesso di potere è l'esercizio errato dalla discrezionalità amministrativa il vizio tipico della discrezionalità dove si va a sindacare come ho ragionato anche se poi formalmente potevo adottare l'atto e l'ho adottato senza violare specificamente alcuna disposizione non è facile capirlo tant'è che si usa il termine figure sintomatiche prof è da 30 domande questa prova non lo so penso di sì mi sembra di sì noi arriviamo a 15 a 15 ci fermiamo quindi anzi adesso vado ad accelerare facciamo la domanda numero 11 intanto avete sentito sottofondo i cani che ogni tanto a corredo mi tengono compagnia domanda numero 11 qualora la maggioranza prevista per la delibera dello statuto non venga raggiunta la votazione ai sensi dell'articolo 6,4 del 2 viene ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 5 giorni 10 giorni 30 giorni 5 10 o 30 giorni per le delibere successive quando non si raggiunge la maggioranza richiesta per la prima votazione che è di due terzi ricordo mentre nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta intanto siamo già arrivati quasi a 200 partecipanti in diretto un bel numero Dio alle stelle sull'eccesso di potere si sono agitate assolutamente sì non reggono a questi concetti o probabilmente stavano rifassando stavano ripetendo fra sé i concetti di nullità e annullabilità Dio alle stelle perché lo conosce sono i cani dei miei genitori sono in campagna in questo momento lo riconosce dallo sfondo non ho la camera insonorizzata allora eh attenzione attenzione clamoroso clamoroso io pensavo questa che l'avreste indovinata al 90% 80% magari per quelli che non fanno i concorsi negli enti locali anche se ricordo la materia è una materia di diritto amministrativo quindi può essere chiesta anche nei concorsi per i ministeri non in maniera ovviamente significativa come nei concorsi degli enti locali però che la metà abbia sbagliato questa è sintomatico del fatto che bisogna ripassare intanto Ilaria sottolinea come non c'è Johnny perché viola e stella se lo magnano Johnny intanto BH una regola che dico sempre e che in questo caso l'ha aiutato l'ha aiutata 30 giorni nel dubbio io metto 30 giorni perché il termine standard anche se è il termine del procedimento non tanto degli enti locali ma in questo caso la risposta giusta era 30 giorni 10 giorni probabilmente lo hanno risposto il 39% ha risposto 10 giorni perché perché è un termine frequente nel diritto degli enti locali è il termine per convocare il consiglio per svolgersi la riunione del consiglio è il termine del preavviso di rigetto ok quindi attenzione è diciamo spesso nel dubbio viene messa il termine intermedio fra i due estremi 5 e 30 ma non è questo il caso quindi in questo caso il termine era 30 giorni e appunto solo la metà l'ha indovinato adesso velocissimi adesso andiamo vi do pochissimi secondi per rispondere pronti attenti via 12 quale dei seguenti soggetti deve essere preventivamente comunicate le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco a al prefetto b al questore c al vice sindaco Antonio giustamente mi sottolinea su instagram 10 giorni anche quello del soccorso istruttorio quindi ci sono molte norme che prendono a riferimento i 10 giorni quindi poteva essere ingannevole allora quale dei soggetti deve essere comunicate le ordinanze contingibili ed urgenti preventivamente al prefetto al questore o al vice sindaco questa veramente è istantanea ok non può essere il vice sindaco ora che il sindaco debba dirlo al vice sindaco semmai viceversa ma in ogni caso il questore non c'entra niente quindi è il prefetto la A domanda numero 13 poi non andate lì e vi chiedo quante ne avete indovinate su 15 domanda numero 13 la competenza di un organo amministrativo viene distinta in tre categorie quale delle seguenti non è una di queste categorie competenza per territorio competenza per materia competenza per connessione rispondete e ditemi quale manca cioè due di queste ci sono qual è la terza competenza sempre nei primi capitoli dei libri che andate a studiare qual è la terza o del book 01 dove lo spiego la terza competenza con cui vengono classificate le competenze di un organo amministrativo territorio materia connessione una di queste non va bene e la dovete individuare al posto di questa ce n'è un'altra la mia email Giannalisa è simone.chiarelli chioccelagmail.com lo scrivo comma allora la risposta benissimo errata in questo caso è la c per connessione perché territorio esiste materia esiste la terza è grado non connessione ottimo marcox sul instagram e anche paola per grado è la terza tipologia domanda numero 14 allora gli statuti delle comunità montane sono approvati a con modalità stabilite dalla legge statale b con modalità stabilite dalla legge regionale c con modalità stabilite dalla legge costituzionale gli statuti delle comunità montane e poi chiudiamo in bellezza ve l'ho fatto intravedere bravo jurgens manca quella per grado andiamo adesso quindi su questa gli statuti delle comunità montane legge statale legge regionale legge costituzionale questa mi sa che fa la differenza mi sa che fa la differenza intanto franco chiede la 13 la 13 la risposta giusta era la c la risposta giusta la risposta giusta dal punto di vista del quiz ma l'errore era la c per connessione da chi sono approvati gli statuti della città metropolitana assemblea intanto benvenuta Michela fra gli abbonati a livello professionale durante questa diretta abbiamo due new entry di abbonamento a livello professionale ma non è come per i comuni e che fai la domanda che ti fa la domanda Rosselli devi rispondere a te non lo devi fare a me ovviamente ti rispondo già che non è come per i comuni perché i comuni sappiamo chi approva lo statuto qui non c'è l'opzione che se l'approva il consiglio quindi deve essere qualcun altro che approva lo statuto e la risposta esatta è la legge regionale comunità montane sono molto più legate alle regioni che non le unioni dei comuni ovviamente gli enti locali quindi in questo caso si scartava legge costituzionale figuratevi se il parlamento per tutte le comunità montane che sono un centinaio in Italia debba fare una legge costituzionale ma anche la legge statale quindi le comunità montane sono legate al territorio e quindi la competenza è della legge regionale 41% 60% l'ha sbagliata allora ora mi vedete contenti per gli errori ma io sono contento perché i quiz servono a questo servono a selezionare e soprattutto chi sbaglia poi impara 15% il prelievo dal fondo di riserva è autorizzato a con deliberazione dell'organo esecutivo con deliberazione dell'organo consigliare con determina dirigenziale il prelievo il prelievo dal fondo di riserva se non vi ricordate cos'è il fondo di riserva ripassatelo concetto importantissimo che attiene alla flessibilità del bilancio di previsione allora questa è abbastanza semplice per chi ha studiato contabilità per chi non l'ha fatta può essere tratto un inganno dove si trova il fondo di riserva ok il fondo di riserva si trova in un documento che approva un certo organo ma prendere soldi da questo fondo è diverso che istituire o stabilire il contenuto di questo fondo ok vediamo allora come va la vostra risposta ok state andando velocissimi l'organo esecutivo la giunta fa il prelievo dal fondo di riserva che è costituito con il bilancio con delibera dell'organo consigliare quindi la risposta giusta è la A adesso vi chiedo sia su Instagram che su YouTube quante indovinate su 15 ci serve a capire se 13 è un buon voto oppure un cattivo voto su Instagram chiedo di metterlo nei commenti su YouTube chiedo di metterlo nel sondaggio che vi sto lanciando chi ne indovinate qualunque sia il numero sondaggio allora bravo Jürgens effettuato dalla giunta è approvato dal consiglio allora Nicola 10 esatte benissimo clicca pure sul sondaggio vi ho messo 15 14 13 12 o meno di 12 così vediamo com'è andata allora Francesco dice 13 su 15 male non è detto assolutamente che 13 su 15 è male perché ricordiamo i concorsi sono delle competizioni dipende da quanto hanno fatto gli altri se hanno fatto meno di 13 sono andato bene se hanno fatto più di 13 sono andato male vediamo se si è nel gruppone con 13 ovviamente 15 su 15 per definizione io non ho seguito dall'inizio non importa io mi sono perso le prime dice Fabio non importa potete rivederle sul youtube o qui direttamente su instagram scrivete pure cliccate sul sondaggio non scrivete nei commenti il sondaggio è per tutte le tipi di risposte anche chi ne ha fatte 12 11 10 9 su 5 9 su 5 sicuramente siamo un po' un po' bassi ma si può migliorare allora aspetto i 100 voti e poi vi do i risultati del sondaggio mentre ricordo a tutti quanti che dite rimanere sintonizzati perché oggi pomeriggio sicuramente ci saranno delle cose e domani sicuramente una nuova versione dei quiz in diretta mettete like iscrivetevi al canale la campanella delle notifiche per essere avvisati delle dirette allora terminiamo questo sondaggio che ci dice il 5% ha risposto bene a tutte e 15 le domande 4% anzi quindi fattibile il 11% ha risposto a 14 il 27% ha risposto a 13 quindi poiché diciamo circa circa il 20% sono quelli che in una presa elettiva passano solo 15 e 14 mi dava la certezza di passare già con 13 potevo essere dentro con 12 o meno sicuramente no quindi non è che a 12 non si allontani a 11 un po' più lontani a 5 si allontanissimi grazie intanto wellness wellnessere i quiz servono a memorizzare dei concetti è ottimo io ne ho prese 3 ma 12 le ho indovinate non ho capito quello che ho scritto era categoria C non importa non importa se categoria C e D sono tutti uguali i quiz C e D sono indifferenti allora io vi ringrazio vi ricordo se volete di mettere like di seguirmi di seguirmi su tutti i canali social di mandarmi per email le prove e quiz che volete che io commenti durante la le dirette vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione vi lascio con la sigla che è bellina e mi piace avanti tutta vi saluto vi saluto Grazie.